Siamo stati in Donbass a combattere, sì, ci siamo portati le medicine, i giochi dei bambini, siamo andati all'orfanatrofica, abbiamo dato le penne, le matite, i vestiti, i pannolini, l'aspirina e queste sono state le armi che ci siamo portati. In più ci siamo portati le chitarre, abbiamo fatto pure il concerto con la popolazione. Praticamente subito dopo maggio, dopo il 2 maggio, 3-4 notte, abbiamo cominciato a vedere il video del massacro della casa dei sindacati di Tudessa, abbiamo pensato di organizzare un gruppo che abbiamo chiamato Caravano Antifascista che andava alla portaglia di umanitari. Siamo stati 3-4 mesi dopo maggio la prima volta del 2014 e poi ci siamo andati quasi una volta all'anno. Abbiamo portato medicine, giochi dei bambini, materiale scolastico, abbiamo portato anche soldi raccolti con delle campagne per orfanatrofi, ospedali, mense popolari. Siamo stati quasi sempre, ogni viaggio siamo stati a 4-5 orfanatrofi differenti, tutti, quasi tutti, nella zona dei confine fra il Donbass e l'Ucraina. Alcuni erano stati bombardati il giorno prima, siamo andati a portare aiuti negli ospedali dove c'erano persone senza gambe, ferite, senza un occhio, senza arti, che erano state prese da cecchini. Quando siamo stati lì la guerra era in corso e proprio capitava che eravamo stati il giorno prima, sono stati il giorno dopo da una parte, avevano bombardato il giorno prima, oppure la situazione era quella, la guerra era in corso. Diciamo che le repubbliche popolari non hanno mai risposto al fuoco, quasi mai risposto al fuoco, perché c'era la volontà di rispetto all'accordo dei mischi. Il governo ucraino è sempre bombardato, noi siamo andati a decine di case distrutte, ogni volta sentivamo le cannonate, inoltre delle persone che incontravamo l'anno prima, l'anno dopo non c'erano più, erano morte, sono state cose ripetute ogni anno. Dalla popolazione siamo stati raccolti bene, perché siamo andati in 100 persone o 50 persone, ognuno di noi portava 23 kg di medicine o giochi per bambini o materiale scolastico, per cui quando andavamo in un posto eravamo accolti bene. La gente giustamente non capiva perché la comunità europea dava addosso a loro che stavano a cercare solamente di restare in pace. Certo non volevano stare sotto il governo di Kiev, quello che volevano era una autoterminazione, trovare una soluzione pacifica al conflitto. Certo le armi le hanno prese, perché comunque non volevano essere invasi, ma hanno cercato di rispettare l'accordo dei mischi. Qui tutte queste notizie non se ne ha conoscenza, sembra che la guerra è scoppiata una settimana, io posso dire che da 7-8 anni che vado in Donbass il conflitto c'è sempre stato. Il Donbass non è mai esistito nei giornali, giusto un certo tipo dei giornali indipendenti l'hanno nominato, l'hanno parlato del Donbass. Racconto sempre che ho scritto una cosa che vi sia in un paese che non esiste, perché di fatto tu andavi là, vedevi la guerra, vedevi la popolazione, quasi 14.000 morti in 8 anni, non so pochi, quasi 300 bambini morti, non è che non sono pochi. Sempre l'impressione che ci sono morti di serie A e di serie B. Sappiamo che i bambini di Gorlovka, di altri paesi che stavano lì, di Alshek, dove andavamo sempre noi, sono stati portati in Russia. Per due o tre giorni l'Ukraine ha bombardato fortemente, l'altra settimana, ha bombardato fortemente per cui hanno deciso di andare a tutti i bambini dalle zone più o meno di conflitto, quelle che stavano proprio vicine alla frontiera. E questi bambini sono da tutti quanti a Rosso, in alcune famiglie, sempre in Russia. I russi hanno deciso di ospitare famiglie o bambini che venivano dalla zona del Donbass. Considera che per i russi il Donbass è russo e per il Donbass è russia quella là. Sono figli dei russi, nipoti dei russi, sono russi, parlano russo. Siamo rimasti legati e speriamo in breve di riandare a portare aiuti perché presumo che saranno come il primo o peggio dei primi. I bambini parecchi hanno perso i genitori nel conflitto in otto anni. Abbiamo visto bambini con problematiche mentali, quando ci siamo tornati dopo un anno, due anni, abbiamo riconosciuto, erano quelli, abbiamo visto che c'havano dei problemi, di comunicazione. Dunque la guerra non è che è in gioco. Leggita sul giornale non è la stessa cosa di vederla. Una volta siamo stati a Donets che è venuto il padre con una bambina. Ci ha fatto conoscere una bambina che aveva perso l'udito perché era caduta una bomba nel salone di casa. Cose che a noi ci sembrano veramente irreali, però lì purtroppo sono quotidiane. E ci ha chiesto se potremmo tagliare la mano a un'operazione, qualcosa per degli apparecchi acustici. Noi ci siamo messi in modo, abbiamo preso tutti i documenti scritti in russo, li abbiamo fatti a dei dottori qua per capire se era vero, se era falso. Perché la guerra ti insegna pure che apparecchi cercano delle soluzioni alternative per trovare soldi e cose. Verificato tutto quanto, abbiamo raccolto i soldi in poco tempo, abbiamo comprato quello che gli serviva, è stato fatto al massimo e lei l'anno dopo è venuto il padre della madre a ringraziarci che la figlia stava bene, è venuta pure che lei era cresciuta dall'anno prima, già diciamo, non sentiva benissimo, un po' sentiva. De questi, guarda, ne potrei raccontare tantissimi. A Gorlova che siamo andati, che è un paese che sta al confine, continuamente bombardato, l'altro giorno hanno ucciso due maestre che stavano a scuola, è arrivata una bombo graine, hanno ammazzato due maestre all'interno della scuola. Siamo stati al suo paese, i bambini ci hanno fatto vedere un buco dove si nascondevano quando tutte le noti arrivavano le bombe. Questo buco ci siamo entrati, veramente ti mancava l'aria, era dentro un giardino, c'era questo buco, entravi dentro con una scala raffazzonata, poi sono buoni tutti quanti là. L'anno dopo siamo andati che era sempre a questo paese a incontrarsi famiglie, qualcuno era tardi, però era tardo pomeriggio, era quasi buio e molte famiglie di quelle che incontravamo l'anno primo, l'anno primo ancora non sono venute perché era buio e lì comunque c'è il coprifuoghe e comunque il buio non è come a Roma, il buio è buio e c'è la guerra a due chilometri. Per cui mi ricordo questa cosa, sono buoni di là, ci hanno offerto un tè, però pure loro erano timorosissime, sia per noi che eravamo andati là a trovarle, sia per loro che stavano in un posto comunque dovevano stare da una parte dove si potevano rifugiare. Alcune di queste cose ti ricordi tutta la vita e questo conflitto lì c'era, qui non esisteva.